Pochi attenuanti per questo Campopasso, Francesco? Sì, penso che oggi dobbiamo analizzare un po' la partita perché qualcosa non ha funzionato però penso che prima del gol la squadra stava giocando abbastanza bene a sinistra abbiamo sfondato un paio di volte però a volte abbiamo avuto la forza di recuperare e oggi non ci siamo riusciti Ecco il tuo gol, il gol della bandiera però sul banco degli imputati Sì, un Campopasso che ha subito un blackout dopo il gol dell'1-0 della Fermana però è stato un ciclo davvero terribile dal 32esimo al 38esimo quando avete incassato tre gol nel giro di 6-7 minuti insomma Sì, vabbè, banco degli imputati, ognuno sa le sue responsabilità No, no, non mi riferisco a te in particolare No, 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 in generale i compagni di squadra sto dicendo che si pigliano le loro responsabilità come tutti quanti, siamo una squadra e quando le cose vanno male tutti quanti ci pigliano la colpa quindi non penso che... bisogna solo migliorare perché comunque non c'è tempo dobbiamo rimanere agganciati al treno dei playoff Per ora la partita è finita da pochissimi minuti una spiegazione a caldo, ancora non riuscite a darvela di questo brutto KO? No, no, io penso che dopo il gol, come hai detto tu, abbiamo avuto un blackout non abbiamo avuto la forza di recuperare però cerco di guardare i primi minuti che stavamo giocando bene dopo ti ho detto a volte siamo riusciti a ribaltare situazioni anche peggiori oggi non ce l'abbiamo fatta Andrea Cos, uno dei migliori della Fermana ma forse farei un torto agli altri perché avete fatto collettivamente una prestazione straordinaria quindi se dico che sei stato uno dei migliori forse appunto tolgo qualcosa ai tuoi compagni No, il migliore oggi è stata la Fermana, come ho ripetuto in precedenza il migliore in campo è stata la Fermana oggi c'è stato un gruppo che ha voluto un obiettivo che era quello della vittoria per salvarsi perché ad oggi bisogna salvarsi poi togliersi qualsiasi soddisfazione che si presenti Dotato di un bel destro, hai provato almeno 4-5 volte il tiro dal vertice destro dell'area di rigore perché sai incrociare molto bene poi in una di queste circostanze hai pure segnato Guarda, ti dico una cosa che sembra strano ma stando con Iaconi e lo staff ho imparato non un nuovo modo di tirare però ho provato tante volte in allenamento a fare dei tiri incrociati e devo dire che ho fruttato anche se oggi il portiere mi ha dato una mano però sono più propenso a tirare da fuori